Buonasera, benvenuti ad Ancora Tg, endocrinologia e nutrizione. È questo il nuovo servizio attivato dall'ASL3 ed in particolare presso l'ospedale di Spoleto e coordinato dalla dottoressa Simonetta Marucci, un servizio che è stato presentato questa mattina dai vertici dell'ASL e da quelli del San Matteo degli Infermi. Testimonial d'efficacia di questa nuova specialità ospedaliera è stato lo stesso sindaco Massimo Brunini che ha sperimentato in prima persona il servizio nutrizionale, dimagrando ben 20 chili in pochi mesi. Attraverso il nuovo servizio si mirerà a curare i disturbi del comportamento alimentare che riguardano molte persone anche a Spoleto e nel territorio dell'ASL3 attraverso la medicina integrata. Per ora sarà attivo solo 12 ore a settimana ma già la richiesta di visite è notevole. Tra i pazienti ci sono perfino alcune bambine. In questo caso, ha spiegato la dottoressa Marucci, la terapia si estende anche alle famiglie. E passiamo ora a parlare del Festival dei Due Mondi di Spoleto che tra gli appuntamenti in programma vede un'interessante mostra. Si tratta di Womb Portraits ed è realizzato a Palazzo Leti Sanzi da Robert Wilson. Si tratta di una serie di oltre 60 video, ritratti in alta definizione che ritraggono protagonisti del cosiddetto star system, ma anche gente ordinaria e animali straordinari. Tra i protagonisti, attori del calibro di Brad Pitt, Johnny Depp e Winona Ryder. La particolarissima mostra sarà visitabile fino al 13 luglio al costo di 5 euro. E passiamo a Foligno, dove nelle ultime ore è stato nominato il nuovo vescovo chiamato a sostituire Monsignor Arduino Bertoldo che ha presentato le dimissioni per anzianità. Il nuovo presule, nominato da Papa Benedetto XVI, è Don Gualtiero Sigismondi sacerdote 47enne originario di Bastia Umbra. Il Papa ci ha trattati veramente bene, ha commentato Monsignor Bertoldo nel dare l'annuncio e dobbiamo essere grati a Dio. Don Gualtiero era desiderato come vescovo in molte altre parti ma fortunatamente questo dono è toccato a Foligno. Ed ora in Valnerina. Parliamo di preci dove domani prenderà il via la manifestazione enogastronomica pane, prosciutto e fantasia. Protagonista di questo atteso appuntamento per la Valnerina sarà il prosciutto IGP locale, ma anche la crescia di Gubbio e il sagrantino di Montefalco. L'avvio dell'evento avverrà domani mattina alle ore 10 con l'inaugurazione dell'antico mulina d'acqua che ospiterà un punto informativo sulla Valnerina e sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In occasione dell'inaugurazione verrà offerta ai presenti una dimostrazione pubblica di molitura. Il mulino di preci quindi diverrà rilevante anche ai fini didattico ambientali delineantosi come una delle possibili mete da fare sul territorio alla riscoperta delle antiche tradizioni. Con la Valnerina chiudiamo questa edizione e ci ritroviamo domani. Grazie per averci seguito.